Io non sono per buttare via il bambino con l'acqua sporca, quindi io credo che il governo abbia fatto delle correzioni giuste, però io credo che il difetto del re di cittadinanza sia ancora lì. E qual è il difetto del re di cittadinanza? È quello di mettere insieme la lotta alla povertà con una politica attiva del lavoro. E questa è la cosa che è fallita, e peraltro è la cosa che riconoscono tutti, persino quelle del Movimento 5 Stelle. Insomma, demasi entro certi limiti, mi sembra. No, no, secondo me il re di cittadinanza deve essere uno strumento di reinserimento sociale. E per quanto riguarda le politiche attive del lavoro ci vogliono degli altri strumenti. Il disoccupato, per esempio, è una persona che appartiene una platea diversa dal povero, dall'emarginato. Il disoccupato è uno che è ricollocabile nel mercato del lavoro. Lei sa che quelli che prendono il re di cittadinanza per il 72% arrivano al massimo alla scuola dell'obbligo. È evidente che è una platea questa che non è spendibile subito con... a parte il fatto che tre proposte non gliele fanno, no? Perché i centri per l'impiego non sono in grado di fare. Adesso però anche sulle proposte ci sarebbe un cambiamento, potrebbero essere al massimo due. Professor De Masi...